Rassicurazioni nell'ultima seduta di lavori a Palazzo Daimmo per la consigliera Ida Romagnolo presto le indennità agli operatori sanitari dell'emergenza Covid. A breve, gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza causata dal Covid-19 riceveranno delle indennità per l'impegno profuso. Il governatore del Molise Donato Tom ha su questo rassicurato la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Ida Romagnolo che sin dai primi mesi della pandemia ha sollecitato una gratificazione economica per tutti i coloro impegnati quotidianamente in corsia. Lo ha fatto inizialmente attraverso una mozione presentata l'8 aprile 2020 chiedendo nello specifico il riconoscimento di una indennità di rischio infettivo per medici ed operatori sanitari. Figure che hanno affrontato l'emergenza Covid-19 con ritmi impossibili da reggere mettendo a repentaglio la propria vita, ha commentato la consigliera Romagnolo. Anche in Molise uno sforzo eccezionale nell'espletamento delle proprie funzioni con spirito di sacrificio e senso del dovere. Una battaglia combattuta in prima linea e che ora ha continuato l'esponente di maggioranza a Palazzo Daimmo va ripagata, tematica discussa in occasione dell'ultimo consiglio regionale. In aula la Romagnolo ha quindi ricevuto dal governatore l'impegno e la promessa all'immediato pagamento. Tuttavia la consigliera si è riservata di monitorare la situazione affinché tutto si concretizzi.